Quindi domani mattina giocavamo a Morda... Non so come mai lo chiamano il Martello! E te lo dico io perchè? Per... Forse sono informazioni quello là... Su chi c'ha le informazioni questo? Skog l'ha affogato... Bravo scappa! Ma li posso ammazzare le persone? Mi sa di no... Credo di aver sentito qualcosa... Non lo posso... Eh 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 voglio... Che s'ha fatto qua? Persega... Wow man! Chi è questa vigna? Wow! Andiamo a cedere il comandante va? Guarda qua! Guarda qua! Ho sbagliato... Mi è scriccato! Grazie! Ciao bello! Grazie della tua energia! Mi farà comodo? Ecco la mia energia! Ehm... Ho visto... Ho conosciuto il ragazzo e si chiama Nico! Dicono che è pedofilo! Wow! Ma che c'entra? No le missioni non le faccio! L'ha direttamente uscito il comandante! Ah e qua dicono che non c'è ancora colpo d'ombra! Non so neanche cosa cazzo! Ho sentito qualcosa eh! Si è tipo nobilità però non l'ho preso! C'otrebbe essere questo Antonio! Potenziamenti! No ma sai che non è un'abilità! Oh! Esplosione spettrale! Mica che pigna! No ma va! E posso prendere anche un altro buto? Posso sblocca questa? No! Sblocca uno slot rune del tuo arco! Dobbiamo essere una che mi importa più di tanto slot rune! Non ho rune buone da mettere diciamo! E quando l'oscuro signore tornerà non sblocca! Dai Eva! Vabbè! Appiamo questo! Anche se in realtà il nostro obiettivo era il comandante! Che so tutti questi due scudi! Seguitemi e condividerete la mia vittoria! Abbiamo da fare! Disturba qualcun altro! LOL! Ma c'è erpa gnotta la mia! Oh! C'è qualcuno che si nasconde? No non c'è nessuno bro! Ma voglio vedere! Voglio fargli sfida tra loro! Ci sono troppi ur! C'è qualcuno mi spaccano! Vedete! Guarda quanti sono! Vediamo se c'è dei punti deboli! Eh non lo so! Anche ora che mi sta attirando! Chi cazzo è quello? Cioè se stanno a ammenattare di loro! Si perchè tipo uno vuole... Ho ammazzato un capitano! Ah vuole pedomino! Si! Quando vogliono pedomino fanno così! Lì c'è un Karagor! Che cazzo vuoi te? Come lo si interrompermi! Il tuo sangue tingerà di rosso la terra miera di Mordor! Questa cosa mi rivedo il signore degli anelli! Mi troppo piace molto! Eh per lo lungo? Si! Non mi rivedo volentieri! Mi piace un casino! O le parti inedite! No no con Luca! Non mi rivedo! Eh ti coppone le parti inedite! No! No! Perché Mordor vede che hai parti inedite? No! Andava via qua! Quello mi spara con l'arco! Mi spacca! La domanda è perchè non lo dovresti vedere con i parti inedite! Quello è uno che può diventare capitano! Ah ma quello è un capitano! Non fare il difficile! Questo mese mi sono già assorbito tre assedi! Etta zitto! Coglione! Tre gli assedi! Tu madre è una troia! Cosa? Come? Mi scherzo! Come? Perché quello devi chiamare l'allarme? Che la chiama questo? Me refullo un po', facendo così... Accendete i fuochi! E l'autoggiava! Non muoverti! Accendete il sediato! Porca boia, oh! Non mi fai paura! Vai ad accendere il fuoco! Vai ad accendere il fuoco! Murtacci tu, oh! È ora di fare un gran macello! Devo andare via! Devo andare via! E io che speravo di accompagnare! Eh ma lontano sti cazzi! Non posso mica morire qui a Mordor! Eh! Missione completata eh! Lo so che mo sale di livello! Che ti devo fare bro? Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Lo so che sale di livello! Non ci posso fare niente purtroppo! Posso pure che hai pezzo al culo che c'ho... Fermo, non mi attaccare per favore! Che fai trappare! Non si che! Non si che! Non si che! Te la pazza sul culo un po! Non si che! Non si che! No! Non posso interrogarlo purtroppo Non credo proprio Non c'è troppa persone Ammazzo questo capitano Quando ammazzo altri due Basta Eppure è una problema di merda Sarà Questo c'aveva le informazioni Quello è coso Quello è il mandriano Ti seguirò per tutta morda Ma che fa Guarda come si è brutto Andrei uomini e donne Se fossi in te Vieni Vieni Fammi vedere quanto ti guarda Uno Uscidiamo i suoi scagnozzi Uno Due Dietro con space Killiamo questo, killiamo quest'altro, e succhiamo l'energia a questo. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Non lo killo così va. Vediamo se con l'arco posso raggiungere qualcosa, così lo entrare tra questo. Ma se sta prendendo una male di vizio. Ma va tanto sta da solo, ma non lo killo il botto. Dime che non lo killo, please. Ok, via qua va. Fatti a fare due domande. Dove è messo Peppino? La Nutella? Dove è nascosta? Non ha informazioni su... Su quelli importanti che mi servono non ha informazioni. Poderi 11 sto capitano, what? Ogbur il malato. Boom, si, ah man. Dammi questo arco. Andiamo a vedere una cosa. Allora, vediamo dove stanno... Questo sta lontano. Questo sta... Questi due stanno vicino. Potremmo ammazzarli tutti e due. Questo sta qua vicino. Questo sta lontano. Questo... Andiamo a killa questo. Musica, punti forti e deboli. Vulnerabile, vulnerabile, copri di classe forti, vulnerabile, attacchi di distanza, vulnerabile, le basse cavalcate. Volate quello. Ok, questo lo killiamo con la fortività. È a livello 4, non so se nemmeno con lui come cazzo ci si è andato qua. Perché non me lo fa ammarcare? Oh, non me lo fa ammarcare. Ah, perché è già ammarcato, perfetto. Ok, andiamo a killa questo. Lo facciamo con colpo di grazia portico. Così lo killiamo in instant. Free è roba del lui. Perché? Non puoi chiedere informazioni pure a quello? Eh, sì. Però se posso killarlo così, lo killo così e basta. Tanto, cioè... Aspetta, fammi vedere se è legato a quel comandante. È legato a un comandante, quindi actually le informazioni potrebbero servire. Cioè la guardia del corpo, però può essere che stanno le informazioni del comandante, perché sono le guardie del corpo. Sì, actually dovrei chiedere informazioni. Accio lì, dovrei chiederle informazioni. Sshh! Non ti preoccupare, bro, non ti preoccupare. Uscidiamo gli arciari. Mette. Chi è? Chi è? Chi è? Là c'è una missione da fare. Volendo potremmo fare questa missione, vediamo che missione è. Intoccabile. Noi siamo gli intoccabili e voi ci vedete, lo voto. No. Consiglio, sconfiggi il quadro del corpo del comandante prima di affrontarlo. Vabbè, vabbè. Il comandante vedrà. Nessun'arma può scalfirci. Non era a livello 4. No, questo è un comandante, quello era il capitano. Ah. Devo uccidere prima. Uccidi 20 euro senza subire danni. Senza subire danni. Non fate attenzione. Vi mando fuori da soli ad affrontare il bravo. FECCIA UMANO! Ah, in pratica, Assoria che cos'è? Lui che cos'è? Legato a uno spettro. Sì, no, lui è morto. Gli hanno ucciso la moglie... La moglie e il figlio. E a sto spettro hanno fatto lo stesso. Hanno ucciso sia la moglie e il figlio anche lo spettro. E quindi sei legato a lui? Sì. E' l'unico modo che hanno uscito... No, di là. I cercati di ridimersi, capito? E di famosi del segno degli anelli? Mai qualcuno? No, per ora non ho incontrato nessuno. Cioè, l'altra volta ho visto golli? Sì, però l'altra volta... Cioè, adesso... Non incontro nessuno, il famoso. Cioè, tipo Legolas, questi qua, ragazzi, nessuno. No, 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 via via. Killiamo gli arciari sui tetti? Cioè, proprio quelli da per asciugare qualcuno, quindi... Probabilmente questo adesso lo per asciughiamo, questi arciari. Allora, a parte c'è delle frecce qua, quindi. Ho sentito qualcosa. Ho sentito questo. Puntare la goccia. Il senzamorte non è l'unico che riesce a ingannare la morte. Il volo spagnato da forza. Ok. Oh, eh... Se chiediamo quello, ci vedo quello dietro. Tocca a Ghilassarciare qua solo. Quale rumore, bro? Tranquillo, tranquillo. Questo lo sciogliamo così. Ok. Forse possiamo ucciderlo. Butta di sotto e urla per Prodo. Eh? Sentito? Non so ancora quanti mi mancano da uccidere. Se sarà bugata la missione, probabilmente. Ok, ne do uccidere i cinque ancora. Sì, sì, eccolo. Colpa mia! Non basta uno stupido spettro. Non basta uno stupido spettro. Approciarmi il figlioso. Oddio, questi che ha visti? Cos'è sta? Sul culo? Sì. Devo risocchiare un po' di energia qua. Un calone. E' arrivato Goro. Goro sul tozzo. Goro. 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 Che l'amo sto comandante, va? Diamo un po' di freccia, va. Freccia e concentrazione. La ringrazio. Questo lo chiediamo così. Segnaliamo Goro il tozzo. Usa attacca a distanza. Consiglio di colpa di classico battimento. Attacca a distanza vanno più che bene, quindi... Ovviamente lo killeremo verso l'attacca a distanza con le frecci. Ehi. Che faccio, Sago? Tu scendi? Sei morto, bro. Oh, vediamo se c'è una rina per l'arco che mi può attornare utile. Potremmo insieme a un punto disponibile. Una volta caricata la serie di colpi, puoi scattare una freccia infuocata. Tieni, rumuto. Più C3L. Ogni otto colpi consecutivi. La faccio adesso prendere un colpo? Questa mi piace. Mettiamo questa. Ah no, c'è anche un attributo da mettere. La mettiamo quella sull'arco? No, non la mettiamo. Vediamo prima se abbiamo una runa per l'arco buona. Che è worth. Più l'arco. Da fare in sto momento. C'è un altro 300 concessioni con qualsiasi colpo ombra. Non so ancora che cosa sia il colpo ombra. Poi il altro 300 con le 30 concessioni ci dando un colpo alla testa. Ci serve danno. Ci serve danno. Danno, danno, danno. Danno, danno, danno. Allora, questo è good. Da usare. Questo è fucking good da usare. Quindi. Facciamo così. E mettiamo quella del chiodo al posto. Vai sul coltello che ci sta. Ok. No, ma chi la sta coglione? Vediamo intanto che dice la chat. Io non so anche il PS4. Questo è solo PG. Questo gioco. Che cosa? Questo gioco. Forch of Mordor. No, è pure play. Ma comunque, lo so che magari la gente vuole un po' di headlink e così, ma io lo ricarico dopo lo stream, quindi. Killiamo questo con lo scudo, questo coltello mi stanno più sul cazzo. Cerco di kill la tutta. Che è stato? Che è stato? Non restare l'imparato! Dai, io ho amore. Combatti bene per un verme e come tale ti schiaccerò. C'è da 8-20, bro. Ah! C'è da 9-20, bro. C'è da 9-20, bro. Non so bloccarti per tutto il gioco. Non so bloccarti per tutto il gioco. Sì. Eh, ma lo devo killa così a questo. È morto, acca lì. Boom! È un comandante, è bello che è morto. Si è pure buggato. Manca solo un comandante da uccidere, perché un comandante è un amico mio. Ah, posso anche andare a vedere un duello. Dammi questa runa, va. Ah, c'è l'iso Goodman. Proverete per risolvermi che lo ricevo per il telefono e ci danno una uccisione da violenza. Andiamo a vedere il duello. È questo? È il duello. È tipo quando si scontrano due comandanti, con i due capitani per prendere il posto di un altro. Ma sai che non è questo il duello, l'avrò visto male. Sai che il duello è questo. Infatti è questo. Quello è scontro. Comunque se gioco oppure va a play. Come sta nato il torneo? A me, eh? Eh. Sono terzo su 670. Wow! Wow! 90.000 i stack. Ecco il duello. It's on fire, oh. Porca voglia, vai. Arriva primo, bro. Chissà che sarà del duello. Praxis, signora dell'arco contro, scac, cuore nero. Vediamo un po'. I miei ragazzi non vedono l'ora che io ti uccida. Inchinati e muori, srak mangia srak. Tanto noi abbiamo ammazzato tutti e due, ragazzi. C'è un cazzo di che vinci, abbiamo ammazzato tutti e due. Allora, meno cosi dello scontro. Infatti me lo vado dello scontro, ammazzo tutti quelli intorno di me. Quello già sta a ritirare. Tornerò, e allora ti pentirai di avermi affrontato. Quello già sta scappando. Quello già sta scappando. Amm, gli abbiamo ammazzato tutti e due. E che cazzo quello è scappato? Giusto, crede? Abbiamo ammazzato tutti e due. E' ucciso. E' un ammazzato con anche l'altro capitano. Hai appena vinto, capitano. Vediamo quali sono i suoi punti deboli. Non ce li ho. Ammazzamo il bersager prima. Niente da fare, ho dovuto ammazzare per forza qualcun'altro. Striscia, verme! Stai già a metà vita. Perzino questo capitano. Quello che vuole fa? Sta già a metà vita e vuole fa... Tiè, dà a me st'informazioni. Lo ce lo ce, lo ce lo è anche da quello. Ok. Vediamo che c'ha informazioni su questo. Vuole un'altra per i colpi di grazia furtivi. Perfetto. Abbiamo fatto due capitani. Mica, cazzi. Che vuoi te? Andiamo a nana. E vattene. Foglione. Ok. Vediamo un po' che possiamo kill adesso. Se è cito Risauron. Oh, potremmo kill la... Potremmo andare da questo. Avrò obbligazione sconosciuta. Questo è il nostro... È il nostro alleato. Questo è troppo forte. Potremmo kill la questo. Andiamo da questo. Andiamo a andare a morghi il piccolo. Lo interroghiamo. E ci facciamo dire qualcosa sul capitano. E sul comandante. E poi andiamo a kill il comandante. Questa abbiamo fatto la missione dei comandanti uccisi. Non so che ci darà. To be honest. Se non lo completiamo. Non sapremo mai cosa ci dà. Cara corda. Devi scendere. Asciutati libero. Mi fai così. Via qua. Fatti cavarcava. Si è pure buggato. Weee. Bello. Boom. Ha infuogato. Ma sto perdendo vita perché ha infuogato. L'ho già persa però. Eccolo là. Ma questo lo devo interrogare. Chiediamo anche i ranged che so. L'ho felato. Ma io ho dato odio per i cara corda. Sono bel coglione. Vai cara corda. Un uomo nasconde dietro Karagor. Ma via sempre fuoco su. Eh hai visto? Credo di aver sentito qualcosa. Chi l'ha messo la seta. Una bella frecciatina a quest'altro. Quello ha preso fuoco. Il Karagor ma sta ammazzare il comandante. No è il Karagor ma ci sono il comandante da so... Il capitano che è quello che ha informazioni. E' un Karagor. E' un laghi. E' bestemmiato. E' bestemmiato. Ho capito... Il Karagor. Io ho capito... Un'altra cosa. Ho detto subito cane perchè sei mangiato il c***o Eh lo so, ho capito, lo so, lo so che non è bestemato, però ho pensato un'altra cosa, non so qualcosa Questo vuole, c'è informazione, quindi gli chiediamo qualcosa A lui dobbiamo chiedere qualcosa per forza No, perchè ho ucciso quello, ho tirato su quell'altro Ma c***a, va Va bene, si è buggato in sto gioco Ok, se è scelto di Sauro, lo possiamo andare a kill a questo direttamente Usciti gli ascieri per attirare Kugalaga 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 Andiamo dopo quella laga C'è troppa tranquillità nella laga Vero? Quello che penso anch'io Sshh 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 Sshh